Secondo lei le nostre città sono città sicure, le telecamere potrebbero migliorare un po' la situazione? Sì, sicuramente sì, potrebbero aiutare perché non siamo al sicuro. Non ci si sente completamente al sicuro? No, no, assolutamente. No, no perché non fanno niente per la sicurezza. A quelli là gli manca anche la benzina per le macchine, anche le telecamere, sì, danno una buona mano, però bisognerebbe mettere più pattuglie alla sera. Lei qui si viene al pomeriggio, non trova un vigile. Cosa si potrebbe fare per migliorare le cose? Cosa fai? Cosa fai? Ormai io, a parere, siamo andati oboltre. Andremo sempre peggio. Andremo sempre peggio. Ebbene. Con le telecamere si potrebbe migliorare la cosa? Qualcosa si potrebbe migliorare, ma è costa anche. Costa. È costa. Però un aiuto. Un aiuto. E qui si fa così, si lascia andare. Le donne si sentono sicure nelle nostre città, qual è il suo parere su sta cosa? I tempi mica tanto. Mica tanto. No, ma te non hai subito niente. No, no, non ho subito niente, però... I comuni si stanno attrezzando per mettere un po' più di telecamere, questo può aiutare? Le telecamere, sì, aiutano, sì. Scusi, una domanda. Secondo lei, le nostre città sono sicure? No, assolutamente. No? No. Telecamere, videosorveglianza, queste cose potrebbero darvi una sensazione migliore? Minima parte, sì, minima, però ci vuole altro. Che cosa vorrebbe lei su questo fronte? Sentivo stamattina che a Milano hanno dovuto mettere singolarmente dei condomini, le guardie... Giurate. Giurate. Pensi lei dove siamo arrivati. Quindi forse più poliziotti nelle strade? Certo, più controlli non solo in centro ma anche in periferia, esatto.